Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, codi a tratti per traffico tra Pistoia e il Vivio Colla 1 in direzione Firenze. Qualche problema in Fipili per incidente, 9 km di coda con tendenza all'aumento tra Montopoli-Valdarno e Vivio Sgc Fipili della Mazione Pisa per chi viaggia in direzione mare in carreggiata opposta tra Vivio Sgc Fipili della Mazione Pisa e Ponte d'Era Ovest. Un chilometro di coda per curiosi. Coda per incidente per un chilometro anche tra Ginestra e Scandici in direzione Firenze. Tra Ginestra e la Strassigna inoltre coda e attratti per traffico intenso. Ci puoi salutarci per il traffico urbano di Firenze e attenzione per probabile presenza di materiale in carreggiata in via del Gignoro. Buon versino Toscana Info e servizio in collaborazione con il corregione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.